salve a tutti ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata della zercocraft 3 benvenuti 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 perché urlò all'inizio video perché dicono che da molte più visualizzazioni ma non è vero niente perché ne ho pochissime quindi cosa andremo a fare oggi intanto sta diventando notte ho aggiunto un'altra moda all'infinity si man mano la sto personalizzando quindi se non trovate alcune cose state giocando anche voi all'infinity è perché io la sto personalizzando voglio fare questa l'advanced enchantment table fighissimo questo trezzo troppo p ma è fighissimo allora ci serve per prima cosa un enchantment table che si fa con ossidiana due diamanti e un libro quindi ossidiana ho solo 4 ma io mi voglio prendere un altro po' 8 9 10 prendiamone 10 penso che bastino 10 un libro quindi che andremo a fare poi ne dovremo fare anche molti di libri ci serve della carta che non abbiamo però abbiamo le canne non so se non io l'ho imparato ancora book niente niente allora allora della carta perché non me la da perché ti blocchi perché fai così ogni volta che iniziamo il video non rompere le sciato allora la carta si fa così la pelle ce l'abbiamo non so se glielo ho imparato ma io gliela rimetto ok togliamo qui e si vabbè allora pelle carta libro ottimo che gli andremo a imparare ottimo ottimo queste gliele bruciamo perché noi può due diamanti che non abbiamo diamo io te l'ho imparato il diamante perché non c'è niente qui no 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 non mi dire io te l'ho imparato il diamante si che l'ho moltiplicato pure non posso andare adesso a trovare un diamante allora allora forse non ci capiamo faccio così me ne prendo uno uno vabbè faccio così te lo imparo ok diamo diamante forse perché non ce la fa perché è poco quanto vale le mc 500 e si perché abbiamo poche mc allora questi li ributto questa non me la trova e questi qua quanto valgono brucia 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 eccolo qui ne abbiamo uno ma invece di bruciare questi brucio la legna che ne abbiamo a bizzeffe quantità industriali adesso bruciamo questo ma quella ma è vero ne abbiamo di più vabbè brucio brucio niente dammi tutti gli stack di legna possibili immaginabili che devo bruciare devi bruciare no dare a me brucia 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 abbiamo il due diamanti yoku quindi era ossidiana così i due diamanti laterali e un libro ok siamo arrivati al primo passo adesso dobbiamo riscrivere enchanting bla 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 queste cose così ok altre due due ossidiana dell'oro book and quill e un ender e of ender un occhio di ender allora ossidiana ce l'abbiamo quattro pezzi di oro quattro un book and quill che quindi ci servirà questa e una piuma ok la piuma l'ha imparata adesso si meno male che io l'ho fatto imparare è un libro che abbiamo fatto imparare prima prima un libricino così quindi mettendo questi tre così ok ci dà un book and quill e gli facciamo imparare anche questo ottimo e poi ci serve un ender perché dovremmo avere infatti delle blades che dovremmo infatti abbiamo fatto imparare abbiamo anche uno spawn di blades e questa blade la dobbiamo macerare perché ci serve la polvere di blades quindi bam mettiamole qui ce ne dovrebbero dare quattro in più ci dà anche del sulfur che questo è utile ci servirà poi successivamente sulfur sulfur l'ho imparato già e lo brucia perché adesso non mi serve questo io lo faccio imparare ottimo direi mister gray non so perché lo dico sempre però mi piace ender eye of ender occhio di ender che questo io lo faccio imparare anche questo ah bellissimo bellissimo quindi ricapitolando dovremmo avere tutto no perché che cosa che ci manca boh forse il book and quill che non si stacca non lo so i due ossidiana ce l'abbiamo l'occhio ce l'abbiamo il tavolo mettendolo qui bam abbiamo il nostro advanced enchantment table come funziona questo advanced enchantment table è come un enchantment table normale allora visto che qui adesso che con questi quattro macchinari mi stanno iniziando ad allargare un po' il mondo e so che all'inizio avevo detto che questa era la stanza dei macchinari la trasformiamo questa qui la portiamo tutta un'altra parte magari vicino alla farm di alberi concentriamo tutto lo spam lì e qua magari ci facciamo la nostra zona di enchantment table la nostra zona di enchanting però 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 giustamente anche questa ha bisogno di librerie quindi servono uno due tre librerie poi vengono uno due tre librerie qua o quattro non lo so sarebbe benissimo qui però calcolate noi da qui possiamo prendere esperienza se noi clicchiamo col tasto destro vedete uno due tre quattro ci prendiamo di ruolo l'esperienza che abbiamo posato eh basta 22 no abbiamo solo 22 pochissima esperienza pochissima ma vi sa perché non si collegano i ho sbagliato qualche cosa qui eh si questo che è mezzo pieno glielo metto qua così ok si è collegato basta qui non gli metto niente perché altrimenti non va bene magari questo quest'altro qua pure è chiuso però glielo possiamo mettere io ne ho craftati altri ne metto proprio due e ci togliamo il pensiero uno due tac tac ok quindi ando col tasto destro quando arriviamo eh la fine è sempre 22 niente di più dobbiamo attivare la farm farm di mob per fare esperienza anche se quello poi diventa essenza di mob che non è la stessa cosa se si può ritrasformare però se lo uccidiamo noi ci dà l'esperienza vabbè comunque 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 però con quello vanilla ci debbe dare proprio questa esperienza qui quindi dovremmo fare la farm farm di mob farm di blaze vai che ci dà il blaze road che bruciandole ci può dare qualsiasi altra cosa comunque dobbiamo fare quella allora ci servono librerie quindi direi di craftare prima le librerie in modo che allora book 64 perché non ho fatto 64 non lo so comunque legno e legno ci dà questa quindi io se brucio se la impara la libreria giusto? si quindi io posso fargli imparare direttamente la libreria quest'altro libro che ho fatto li brucio in modo che mi dà altre librerie 19 librerie ne vorrei fare 20 ma giusto per per correttezza ecco ok 20 librerie non abbiamo più nulla qui dentro che bello allora 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 la mettiamo qui o la mettiamo direttamente qua qua c'è la porta eh si qua dai facciamo proprio strettamente qui no qua in modo che l'angolo si facciamo 1 2 3 l'enchanting table va qui non sotto qui così poi altre 3 le metto qui esce un pochettino fuori io per questo non mi piace che poi esce e ti trovi questa libreria davanti è brutterrimo brutterrimo se le facciamo nel muro come lo scemo come questo si rompono non fa niente bruciamo i libri ne prendiamo altre librerie non mi interessa non mi piace così quando una cosa non mi piace non mi piace allora io le librerie gliele faccio qui così 1 2 3 1 2 3 e altre qua 3 1 2 e 3 1 2 pure qua così arriva giusto giusto che c'è la libreria questo l'ho sposto di un posto più avanti in modo che riesci a prendere anche le altre librerie così e andiamo a fare altre librerie subito veloce amante veloce amante bruciamo tutti questi libri se ne vengono fuori adesso 7 è perché brucio anche queste e ne abbiamo 13 basta no? non lo so vediamo la luce così e così ottimo vediamo la luce anche qui gliele metto anche sopra perché io può le consumiamo tutte come funziona come funziona prendiamo il nostro piccone no questo della tinker non va come è possibile no che merda mentre la spada si vabbè questo perché è fatto con la tinker non va dovremmo farci tipo un piccone normale è strana però tipo questo scusami questo che è quello vanilla lo possiamo riparare però non abbiamo livelli quindi non ce lo ripara dobbiamo prendere qualche livello con la mano libera eh sì vabbè ho messo la crafting qui sopra dai scusa togliti grazie prendiamo qualche livello perché poi non cioè si è rotto facciamolo da capo poi a questo punto un piccone normale eh sì penso che sia la cosa migliore fatemi vedere ci sono una cosa con F7 no non spona niente sicuro mettiamo queste lampadine una la metto qui una la metto qua vai sto scaricando oddio che scemo eh brucio l'ossidiana non ce la faccio un po' di clovestone brucio la clovestone ok ah hai imparato con lo stesso eh non mi conviene allora a questo punto legna legna brucia lo faccio così posto a destra no così così sì così ah devo prendere un altro così no non ho detto con shift su un altro oggetto lo butto qui dentro col tasto destro nemmeno no vabbè la cacchiata due diamanti ce ne serve ancora un altro abbiamo finito la legna lo stack ce lo voglio mettere lo voglio lasciare ok tre diamanti che bello in questo modo un piccone nuovo in diamante ta 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 questo ce lo rimetto allora abbiamo scaricato i livelli riprendiamoci i livelli di nuovo da capo che bello però almeno abbiamo capito che funziona quando abbiamo i livelli ce li scarica allora andiamo qui no questo quello nuovo mettiamo così e ad esempio noi ci potremmo mettere fortuna tre unbreaking no ce lo scarica perchè non abbiamo abbastanza livelli e allora mettiamoci fortuna fortuna tre enchant pam fortuna tre cosa ci possiamo mettere più efficienzi no abbiamo solo due livelli non possiamo mettere niente nemmeno un unbreaking unbreaking uno niente sol bond che cacchio mi serve xp boost questo dobbiamo mettere sempre sulla spada auto smelt cioè ci dà le cose già bruciate no allora questo è un piccone fortuna con fortuna vediamo se funziona andiamo tra ah possiamo usare la nostra ferrovia per spostarci più velocemente ferrovia in azione che ho fatto non lo so vai alla farm macello aspetta option music and sound 5 5 perché quando arrivi troppo velocemente non riesce a caricare bene il chunk e mi da questi problemi devo provare magari ad eliminare qualche mod inutile ecco perché così non si può andare avanti non si può non si può non si può non si può non risponde adesso ci metterà 3 anni quindi ragazzi per questo episodio è tutto io vi ringrazio per la visione vi invito come sempre ad iscrivervi al canale la pagina facebook quella di google plus Io cercherò di rendere un po' più fluido questa mod pack Devo eliminare magari qualche mod che non uso Tipo, che ne so, quelle cose decorative che non useremo mai O se successivamente le vogliamo usare poi ce le aggiungiamo Non lo so Comunque, io vi ringrazio per la visione Invito come sempre a iscrivervi al canale e alla pagina Facebook Da Zerk è tutto, ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi